ciao cari oggi bentornati sul mio canale oppure benvenuti se siete nuovi qui io sono celeste quest'oggi vi propongo una pratica a mandala quindi gireremo intorno a tutto il tappetino questo ci aiuterà a trovare concentrazione perché dovrete ascoltarmi e seguirmi intorno ricordandovi diciamo il vostro orientamento e cercando di seguire i passaggi è un flusso di vinyasa quindi un po' vigoroso spero vi darà energia e apprezzerete questi movimenti così un po' più creativi un po' diversi dal solito cominciamo subito a gambe incrociate ma guardando direttamente verso l'inizio del vostro tappetino per cui ci sediamo a gambe incrociate la gamba destra davanti e stendiamo la schiena prendiamoci un momento per arrivare alla nostra pratica ne siamo rivolti verso il nostro inizio tappetino le nostre spalle c'è la fine ci aiuta questo solo per orientarci mentre giriamo intorno connettetevi al respiro inspirando respirando a fondo allunghiamo la colonna vertebrale rilassando giù le spalle ora inspirando solleviamo le braccia su al soffitto ed espiro ci pieghiamo in avanti portiamo le mani davanti a noi abbassiamo gradualmente i gomiti se ce la sentiamo facendo scendere la fronte in direzione del pavimento non preoccupatevi se non arrivate tanto a fondo magari possiamo essere anche più sollevati l'importante è sentire la sensazione di allungo nel gluteo evitando che diventi troppo troppo intensa bene ora premiamo le mani signora dei pesci quindi solleviamo il ginocchio destro teniamo il piede o all'interno del ginocchio per la torsione oppure lo portiamo oltre al ginocchio la mano destra viene dietro di noi il braccio sinistro sale si aggancia oltre il ginocchio il braccio e forse con la mano riusciamo a prendere il ginocchio qualche respiro qua cercando di allungare la colonna vertebrale ora giriamo verso sinistra appoggieremo le mani dietro di noi mentre solleviamo il bacino e ci ritroviamo in una pinza con i piedi un po larghi verso la fine del tappeto teniamo pure le ginocchia un po piegate se abbiamo bisogno dondoliamoci a destra e sinistra sempre respiri molto profondi ora inspiro scimmie stendiamo la schiena sollevate un pochino i talloni così da girare verso sinistra ritorniamo a gambe incrociate ci sediamo giù e abbiamo il piede sinistro davanti a destro allunghiamo le braccia al cielo pieghiamoci in avanti mani vengono ad allungarsi così da estendere i lati del busto poi rilassiamo le spalle rilassiamo la testa premendo giù le ginocchia verso il tappetino 3 solleviamoci premiamo giù le mani signore dei pesci per cui solleviamo il ginocchio possiamo tenere il piede all'interno della gamba oppure oltre il ginocchio destro mano sinistra dietro di noi il braccio destro si aggancia oltre la coscia possiamo anche abbracciare semplicemente il ginocchio evitiamo di incurvarci per riuscire a portare il braccio oltre vogliamo mantenere la colonna vertebrale della lunga ora giriamo verso destra verso la fine del tappetino premete giù i piedi fate un piccolo passo siamo nella pinza rivolti a guardare il retro del tappeto inspiriamo scimmie stendiamo la schiena solleviamo un po i talloni giriamo verso destra ritorniamo seduti a gambe incrociate prendiamo il retro delle cosce rotoliamo indietro e avanti diamoci un piccolo slancio passiamo poi nel tavolino a quattro tappe mani sotto le spalle inspiriamo nella mucca inarchiamo la schiena e spiro gatto incurviamoci ancora due volte quindi inspiriamo nella mucca e spiro nel gatto inspiro mucca inarchiamo e spiro nel gatto la qui raddrizziamo la schiena cambia testa in giù solleviamo il bacino dietro di noi inspiro solleviamo la gamba dei stracana tre gambe entriamo subito nella nostra sequenza mandala affondo stringiamo il ginocchio al petto portiamo il piede avanti per l'affondo pieghiamo il ginocchio posteriore a fondo crescente assicuratevi di avere i piedi non sulla stessa linea ma su due linee parallele srotoliamo la schiena mani possono stare ai fianchi per darci un po più di stabilità oppure le allunghiamo su sopra la nostra testa spingiamo il tallone indietro Everest estendiamo la gamba allunghiamo le braccia verso il pavimento e ci apriamo nella stella verso sinistra facciamo attenzione alla posizione dei nostri piedi da qui guerriero 2 verso la fine del tappetino pieghiamo il ginocchio rilassiamo giù le spalle possiamo muoverci un po in queste pose così da aprire tutto quanto il corpo inspiro guerriero pacifico incliniamoci indietro e espiriamo triangolo ristendiamo la gamba allunghiamoci e rovesciamo le nostre braccia cerchiamo di tenere le spalle aperte verso l'esterno e braccia attive che si allungano nelle due direzioni opposte a fondo pieghiamo il ginocchio sinistro guardiamo qua verso il retro del tappetino e incroceremo i piedi quindi portiamo il piede destro dietro il sinistro in una pinza con i piedi incrociati possiamo piegare un po le ginocchia respiriamo qui solleviamoci nel montagno tenendo i piedi in questo modo inspiro braccia su al cielo solleviamo i talloni e giriamo verso l'inizio del tappetino quindi siamo nella montagna adesso piedi leggermente divaricati siamo in fondo al tappeto guardando l'inizio del tappeto staffa solleviamo il ginocchio destro figura 4 appoggiamo la caviglia sopra il ginocchio a sinistro sediamoci indietro focalizziamo il nostro sguardo rilassiamo giù le spalle possiamo andare gradualmente più in basso se vi sentite di farlo staffa e solleviamo sul ginocchio faremo un passo avanti col piede destro e da qui aeroplano portiamo la gamba sinistra dietro di noi allunghiamo le braccia spalle indietro a fondo crescente pieghiamo il ginocchio destro troviamo il pavimento dietro di noi solleviamo le braccia Everest e stendiamo la gamba le dita scendono inspiro a fondo crescente respiro angina yasana quindi abbassiamo il ginocchio dietro di noi siamo in un piccolo a fondo nella luna crescente abbassiamo poi le mani mezza spaccata e stendiamo la gamba destra creiamo un piccolo allungo nel retro della coscia tutte queste posizioni vogliamo sentire gli allunghi vogliamo sentire il corpo può rafforzarsi ma senza esagerare quindi è sufficiente muovere il corpo e respirare muovendoci per aprirci ora veniamo avanti a fondo solleviamo il ginocchio dietro di noi panca uniamo i piedi vinyasa potete farlo come preferite scendiamo panciatelo magari fermiamoci a chaduranga inspiro cobra magari canna testa in su e già registrato un po di classi quindi il mio corpo è già abbastanza caldo ma potete tranquillamente scendere pancia a terra fare il cobra prendiamo un respiro bello profondo andiamo dall'altro lato solleviamo la gamba sinistra cana tre gambe e spiro a fondo guardiamo avanti stringiamo il ginocchio noi e portiamo il piede srotoliamoci nella fondo crescente possiamo tenere entrambe le ginocchia piegate srotoliamo la schiena e quando ci sentiamo pronti allunghiamo le braccia su e cominciamo a premere il tallone indietro concentriamo il nostro sguardo posizione Everest estendiamo la gamba abbassiamo le braccia stella verso destra apriamoci guerriero 2 verso la fine del tappetino apriamo il ginocchio destro lo pieghiamo inspiro triangolo quindi distendiamo la gamba allunghiamoci in avanti traversiamo le braccia premiamo il dorso della mano contro il colpaccio cerchiamo di allungare qui il fianco senza crollare in avanti ma portando le spalle la schiena sempre più indietro a fondo guardando il retro della stanza solleviamo il tallone dietro di noi pinza incrociata quindi portiamo il piede sinistro verso destra incrociando restiamo un momento qua sentendo l'allungo nel retro delle gambe ricordatevi di respirare di andare con calma ed espiro srotoliamoci saliamo su inspiro braccia su al cielo solleviamo i talloni giriamo verso sinistra appoggiamo i piedi a terra montagna padassana staffa solleviamo il ginocchio sinistro figura 4 appoggiamo la caviglia sopra il ginocchio destro e da qua ci sediamo indietro come su una sedia il bacino viene giù la testa un po avanti manteniamo la schiena distesa inspiro staffa solleviamo il ginocchio facciamo un passo avanti e poi veniamo nell'aeroplano sollevando la gamba destra fa forse paura a portare il viso in avanti ma vogliamo tenere tutto il corpo attivo potete con la mano tenere un muro ed estendendo le braccia indietro mantenendo le spalle aperte evitiamo di cadere in avanti a fondo crescente pieghiamo il ginocchio troviamo il pavimento dietro di noi con il piede destro solleviamo le braccia abbassiamo poi il ginocchio luna crescente magari apriamo il petto un pochino di più e spiro mezza spaccata allunghiamo la gamba sinistra mani scendono giù a terra allunghiamo la schiena e poi con calma potremmo venire un pochino più a fondo inspiro a fondo basso e solleviamo il ginocchio dietro di noi panca uniamo i piedi come prima mini asa scendiamo pancia a terra o metà strada inspiro cobra o cana testa in su respiro cana testa in giù se avete difficoltà ad eseguire il vignasa vi lascerò qua sotto descrizione il video tutorial prendiamo ancora un bel respiro profondo guardiamo poi avanti e proviamo a sederci a gambe incrociate tra le due mani quindi diamoci un piccolo slancio ci sediamo giù facciamo passare le gambe avanti a noi posizione della barca possiamo sia tenere il retro delle cosce che allungare le braccia avanti schiena bella distesa possiamo anche allungare le gambe su proprio di feticosa abbassiamoci barca bassa e viene giù a terra le spalle e i piedi restano sollevati e ci appoggiamo al pavimento ottimo quindi abbracceremo ora il ginocchio destro al nostro petto massaggiamo l'anca muovendo il ginocchio in modo circolare e poi torsione supina apriamo il braccio destro verso l'esterno il ginocchio viene oltre il nostro corpo ancora un respiro qui ritorniamo al centro e facciamo cambio ginocchio sinistro a noi allunghiamo la gamba destra possiamo muovere un pochino l'anca muovere un po il ginocchio e poi creiamo la torsione apriamo il braccio sinistro verso l'esterno il ginocchio viene oltre spalle belle rilassate allunghiamo i dorsali solleviamo sul ginocchio e allunghiamo entrambe le gambe al cielo possiamo muovere un po le caviglie e anche i polsi bambino felice possiamo sia modificare unendo le piante dei piedi e tenendo solo le ginocchia aperte oppure potete sollevare i piedi sopra le ginocchia e con le braccia all'interno delle gambe prendere le caviglie oppure i colpacci oppure i nostri piedi premiamo i piedi contro le mani e con la forza delle braccia riabbassiamo le spalle portando i talloni un po' più in basso abbassando così anche le ginocchia richiudiamo i piedi richiudiamo le gambe ci stringiamo in una piccola pallina e ristendiamoci schiena a terra allunghiamo le gambe allunghiamo le braccia restiamo un minuto qua in shavasana lasciate andare il vostro corpo il vostro respiro mantenete l'attenzione rivolta verso l'interno rilassiamo il viso e da qui tutto quanto il corpo attravalendo la mano si sta sussendo un po' più inyente e da qui tutto quanto il corpo andate che fuori sussano a della parte e ma e da qui tutto è Grazie a tutti. Grazie a tutti. La gamba incrociata oppure quella che preferite. Allunghiamo ancora una volta la colonna vertebrale. Prendiamo un ultimo respiro insieme per concludere. Inspirando apriamo le braccia, solleviamole su verso il cielo ed espiro mani al nostro cuore. Grazie per essere venuti a me. Spero che questa sequenza creativa vi sia piaciuta. Fatevi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se vi piacciono questo genere di pratiche, allora vi piacerà sicuramente il mio corso miele e le classi live del lunedì sera. Quindi vi lascio le informazioni per continuare a praticare con me qui sotto in descrizione. Noi ci rivediamo prestissimo sul tappetino dal mio cuore al vostro. Grazie.